Piccole Donne, il musical di Broadway, è un adattamento del celebre romanzo di Louisa May Alcott, che fin dalla sua pubblicazione nel 1868 è stato uno straordinario successo. Considerato uno dei capolavori assoluti della letteratura per ragazzi, è un romanzo senza tempo, una storia adatta al pubblico di ogni età che ha avuto innumerevoli trasposizioni cinematografiche. Il TSA e la Compagnia dell'Alba lo presentano nella versione musicale di Broadway grazie ad uno speciale accordo con Music Theatre International. La versione italiana è curata da Gianfranco Vergoni, le scene sono di Gabriele Moreschi, illuminate dal light designer Valerio Tiberi. La direzione musicale è di Gabriele De Cuglielmo, mentre la regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini. Il musical, come il romanzo, racconta la storia delle quattro sorelle March, Meg, la saggia, Beth, il tesoro di casa, Amy, la perfetta piccola dama, e in particolare Josephine, detta Joe, maschiaccio di casa e aspirante scrittrice, che nella seconda età dell'Ottocento vivono insieme alla loro mamma a Concord nel Massachusetts, mentre il loro babbo è lontano, cappellano dell'esercito dell'Unione durante la guerra civile americana. Un musical cantato interamente dal vivo. Un musical, come il romanzo,